Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli, rivolto ai cittadini sordi con la traduzione nella lingua dei segni italiana. Questa puntata è dedicata al 3 dicembre, la giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata dalle Nazioni Unite per garantire alle persone disabili maggiore partecipazione alla vita sociale, politica e istituzionale. I servizi informativi aprono la finestra sulle attività del Consiglio Comunale, come ci dice il suo presidente Alessandro Fucito. Il Consiglio Comunale di Napoli partecipa alla giornata internazionale della disabilità presentando un nuovo servizio. Attraverso il servizio LIS sarà possibile seguire e conoscere ciò che avviene nel Consiglio Comunale di Napoli. Per ogni Consiglio Comunale. In questo modo anche i cittadini che non hanno possibilità o difficoltà nell'ascoltare e nel parlare potranno conoscere le vicende cittadine, potranno conoscere l'attività del Consiglio Comunale di Napoli. Un piccolo segnale, dice il sindaco De Magistris, ma che va nella direzione giusta, quella dell'uguaglianza dei diritti per tutte e per tutti. Da Napoli, dalla città di Napoli, aderiamo alla giornata internazionale a favore delle persone con disabilità affinché possa crescere la sensibilità di tutti per delle comunità accessibili a tutte e a tutti. Ancora troppe barriere architettoniche, ancora troppe inciviltà. Ognuno deve fare di più. Da ultimo, come Comune di Napoli, abbiamo fortemente voluto che i lavori del Consiglio Comunale siano tradotti attraverso la lingua dei segni. Un piccolo segnale, ma un segnale che va nella direzione dell'uguaglianza nei confronti di tutte e tutti. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.